Fino a fine anno una farfalla del biancospino e un cervo volante sono in esposizione nelle due teche presenti nell'atrio della sede dell'Assemblea Subalpina. È intitolato alla farfalla e il cervo volante ed è dedicato al mondo degli insetti il quarto appuntamento del ciclo Collezioni Minime a Palazzo Lascaris, piccola esposizione di pubblicazioni e reperti naturalistici provenienti dalle collezioni del Museo Regionale di Scienze Naturali.